ciao a tutti oggi facciamo un tutorial su come montare l'asta con lo spingi disco nel coperchio della frizione della vespa px prima di tutto io ho messo l'oring qua nuovo mettere l'oring si infila di qua e si mette qua poi prendiamo la molla che è questa e andiamo già a metterla qua vedete a questo punto qua quando andiamo a infilare teniamo il taglio verso l'alto verso di noi e cominciamo ad infilare però prima di andare in fondo qui bisogna mettere questo pezzettino qua così e poi andiamo a spingere lì c'è un taglio che deve andare a far presa mentre che lo facciamo però non facciamo scappare la molla da questa posizione qua dove più alto il profilo così puoi metterla lì un gioco da ragazze spingiamo e vediamo che siamo andati a fondo a questo punto qua basta con le mani far ruotare e far andare la molla al suo posto se non ce la facciamo con le mani piuttosto ci aiutiamo con una pinza o con qualcosa ma non è una cosa complicatissima a far andare questa molla qua infatti io ce la faccio già con le mani quasi togliamo pure il quasi è andata con le mani vedete se non avete la forza di farlo con le mani vi aiutate con delle pinze con qualcosa per fare in modo di spingere questa molla poi c'è questo pezzettino qua questo qui vedete come è fatto andate a metterlo che va sopra che quando è a riposo deve stare a filo così poi infine c'è lo sfiatto dell'olio che si mette il filetto qua e con la chiave da 14 si avvita senza esagerare poi abbiamo l'oring che mettiamo nuovo che quello del coperchio perché qua c'è una gola su tutto il profilo in modo che va a fare tenuta lo mettiamo con calma con della pazienza perché l'oring elastico quindi lo mette da una parte tende a scappare dall'altra però con un po' di pazienza ce la possiamo fare come tutte le cose c'è una pazienza qui così controlliamo che sia andato bene in sede così quando poi andiamo a montarlo sul sul carter della vespa noi siamo a posto e lui è bello che è montato adesso qua girando è caduto il pezzettino qua bisogna stare attenti quando poi si va a mettere nel carter che non è non ci cade per lo tanto quando noi andiamo a mettere vedete bello che è montato se vi è piaciuto il filmato mettete like iscrivetevi al canale e spero che mi seguite ancora in molti perché ci saranno altri filmati interessanti io man mano con il tempo faccio dei filmati di tutorial e spero che siano di vostro gradimento se avete delle domande fate pure ciao a tutti